Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Capita quando si spegne un filosofo che la notte del mondo, Weltnacht, come l'appellava Hölderlin, si faccia ancora più buia di quanto già di per sé non sia. E così accade ora con la scomparsa di Emanuele Severino, che filosofo è stato nel senso più alto dell'espressione. Emanuele Severino, scomparso pochi giorni fa, non è stato un sofista amico del nulla e della doxa, dell'apparire ingannevole e ondivago. Emanuele Severino è stato un filosofo che per tutta la vita non ha pensato se non l'essere stesso, riprendendo con le parole del sofista di Platone quella gigantomachia intorno all'essere che da lungo tempo l'Occidente ha obliato e che Martin Heidegger nel Novecento provò a ravvivare e a rammemorare mediante la sua ontologia fondamentale. Proprio Martin Heidegger ricordava Severino nell'ultima fase della sua vita, di fatto si confrontò con i testi di Severino, andò a leggerli e a commentarli. Ebbene Severino seguì la via tracciata auroralmente da Parmenide di Elea, a cui lo stesso Severino proponeva all'Occidente tutto di fare ritorno. Tutto eterno, è questo il nucleo fondamentale del filosofare di Emanuele Severino. Pensare l'essente come puramente diveniente è per Severino scandalo e follia, di più è la follia originaria dell'Occidente, giacché pensare l'essente come puramente diveniente significa pensare l'essente come dal nulla scaturente e al nulla tornante. Questo significa pensare il divenire, che qualcosa dal nulla derivi e che nel nulla faccia ritorno. E quanto il divino Platone appellava to e panfoterizzein, l'oscillare, espressione che Severino più volte citò e commentò nei suoi imperituri volumi. La follia dell'Occidente, il suo oblio dell'essere e degli immutabili, consiste per Severino proprio in questo, ossia nella fede incondizionata nel divenire degli essenti, ossia appunto nel loro venire dal nulla e nel nulla tornare. È l'apice del nichilismo e dunque anche della follia dell'Occidente, che è terra dell'occaso. Se l'immutabile fosse, allora al divenire non sarebbe, va ripetendo da sempre il logo astratto dell'oblio dell'essere occidentale. Critici poco pensanti e sofisti amici della doxa non hanno compreso che Severino non voleva semplicemente negare il divenire del mondo, quello che fa sì per intenderci che la legna ardendo diventi cenere. Severino semmai voleva dare una diversa fondazione del divenire, una diversa fondazione che lo inquadrasse in una cornice ontologica forte, tale da evitare il nichilismo e la follia dell'Occidente. Affermare che l'essente è, per Severino, significa ammettere che esso è eterno. Ed è su questo fondamento ontologico forte, in controtendenza rispetto al pensiero debole di Vattimo o ai sofismi vacui del pensiero negativo di Cacciari, che Severino condusse la sua battaglia teorica contro la tecnica. La tecnica come compimento dell'oblio dell'essere dell'Occidente e come fondamento del nichilismo stesso. La tecnica è infinita e limitata volontà di produrre scopi, è per sua essenza nichilistica, perché si basa su una concezione dell'ente come disponibile, come dal nulla proveniente al nulla tornante. Ecco perché la vera sfida, la grande sfida contro la tecnica, ci ha insegnato Severino, è una sfida che deve essere rifondata ontologicamente, rammemorando l'essere, abbandonando l'oblio dell'essere e tornando a pensare in grande, ripartendo da Parmenide e con lui dagli spiriti magni della nostra tradizione occidentale.